Il governo ha emanato il decreto riaperture, finalmente dopo oltre sei mesi di chiusura i negozi dei centri commerciali potranno riaprire. Cade il tabù del weekend sui centri commerciali, nelle zone bianche, gialle, le gallerie, i parchi commerciali e tutti i negozi all'interno dei mercati comunali e rionali potranno rialzare le serrande, sia nelle giornate festive che prefestive, a partire da sabato 22 maggio. I negozianti del centro commerciali per Coop Miralfiore di Pesaro, categoria martoriata dall'emergenza Covid, tirano finalmente un sospiro di sollievo, dopo esser rimasti chiusi per più di sei mesi. Ingenti le perdite per gli operatori, i quali fino ad oggi dallo Stato hanno ricevuto solo miseri ristori. Ora al via la ripartenza. Meglio tardi che mai? Direi che è molto molto tardi questa riapertura è arrivata, dovevamo aprire molto prima e poi non ne vedo assolutamente l'utilità. Le gallerie si possono gestire tranquillamente, in maniera efficace, senza grosse problematiche, come si fa in tanti altri posti. Quindi non vedo questa necessità che sia stata di queste chiusure. Adesso ci rimbocchiamo alle maniche, speriamo di lavorare, anche se non so poi adesso a questo punto la clientela che abbiamo perso il sabato quanto potrà ritornare, perché anche questo poi bisogna vedere. È un danno anche questo per noi. La clientela è stata indirizzata verso altri luoghi nel frattempo. È stata una cosa veramente senza senso. Noi siamo stati chiusi sei mesi, abbiamo perso un sacco di lavoro, soprattutto a dicembre, soprattutto nei festivi e adesso che cominciano le cerimonie che sono state sdoganate, fortunatamente finalmente riusciamo a rilavorare. E di fatti il riscontro c'è, perché la gente ha voglia di cambiarsi, ha voglia di vestirsi, ha voglia un attimino di rinascere, uscire da questo periodo tremendo che è stato, sperando che sia un po' la fine di questo incubo che abbiamo vissuto da un anno e mezzo. È stata una perdita esagerata, noi abbiamo avuto delle perdite del 50%, non mi vergogna dirlo, quindi è stato molto molto difficile. Speriamo adesso di cominciare a vedere un pochino la luce in fondo al tunnel. Siamo molto contenti perché comunque abbiamo perso tanti fine settimana, tanti weekend, da novembre, dicembre, sono parecchi mesi insomma che siamo chiusi, abbiamo perso 68 giorni lavorativi senza le feste comandate, che ovviamente quelle bisogna tenere chiuso, quindi si parla di tanti tanti soldi. Quindi siamo molto felici e speriamo che poi proceda tutto bene, che vada tutto bene.